Basta i roghi di rifiuti tossici. Il grido d'allarme arriva ancora una volta da via Monti di Resina, strada ai confini tra Torre del Greco ed Ercolano. Tempestivo l'intervento sabato pomeriggio dei vigili del fuoco che hanno provveduto immediatamente, come mostrano le immagini, a spegnere il ruogo. In fiamme, plastica, amianto, legno, carcasse di animali morti. A nulla sono servite le numerose denunce e segnalazioni dei residenti anche attraverso la nostra redazione e le continue richieste agli amministratori dei due comuni ad intervenire con urgenza. Via Monti di Resina continua ad essere una discarica a cielo aperto. Abbiamo chiesto più volte l'intervento degli amministratori, mai in vano. Denunciano con rabbia i residenti. Siamo stanchi. In questa zona ci sono già molti malati di cancro e bambini che devono respirare questi veleni. È vergognoso. Gli organi preposti devono prendere i dovuti provvedimenti al più presto.